Oggi parliamo di un argomento che non vi sareste mai aspettati di vedere su questo canale, cioè i fondi attivi. Quelli che noi chiamiamo fondi attivi sono i classici fondi di investimento dove c'è un gestore, cioè un team di persone che gestisce attivamente il portafoglio del fondo. Ad esempio decide di comprare Apple e non Microsoft, Facebook invece di Google, oppure di investire in Francia invece che in Germania e così via, a seconda del mandato del fondo. I fondi attivi sono nati all'inizio del 1900 in Inghilterra e l'idea era quella di far partecipare la classe media britannica alle ricchezze del loro impero, tant'è che uno dei primi fondi di investimento si chiamava addirittura Foreign and Colonial, oggi nome decisamente poco politically correct, e aveva come scopo investire nelle piantagioni di gomma della Malesia, all'epoca parte del gigantesco impero britannico. In realtà i fondi di investimento attivi come li conosciamo oggi vennero istituzionalizzati negli Stati Uniti. Durante la Gilded Age, la belle epoca americana, il mercato azionario era dominato dalle grandi famiglie come i Rockefeller o i Carnegie. Gli americani che investivano in azioni erano benestanti e avevano un consulente, per cui il consulente aveva un portafoglio diverso per ogni cliente, anche se di fatto erano tutti simili. Finché a un certo punto non viene l'idea di unificare tutti i conti della clientela in un unico veicolo di investimento, un trust. I fondi di investimento esplosero negli anni 20, ebbero un tracollo come potete immaginare durante gli anni 30 e 40, presero poi la loro forma attuale negli anni 50, i cosiddetti mutual fund, fondi comuni di investimento, ed esplosero definitivamente negli anni 60, durante la go-go era, cioè la bolla di fine anni 60. Da lì in poi non si sono più fermati e oggi l'industria dei fondi di investimento è un business colossale. Pensate che nel suo insieme a livello globale gestisce più di 100 trilioni di dollari. In questo video vediamo tre tipologie di fondi attivi, e i pro e i contro di ciascuna tipologia. Se vi piace il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Io sono Alessandro Lazzaro, vi parlo di economia e finanza in modo chiaro, semplice e completo. Il primo tipo di fondi attivi sono i fondi comuni di investimento, che rappresentano la stragrande maggioranza dei fondi attivi. Sono tantissimi, pensate che solo in America ce ne sono circa 8.000, praticamente il doppio di tutte le aziende quotate americane. Insomma, si può dire che i fondi attivi siano di fatto i fondi comuni di investimento. Il successo dei fondi comuni di investimento è dovuto a un fatto molto semplice, e cioè che i fondi comuni di investimento si possono vendere. Al contrario dei trust inglesi, che sono chiamati fondi chiusi, i fondi comuni di investimento sono strutturati come fondi aperti. Qual è la differenza? Immaginate di avere quote di un fondo chiuso e di volerle vendere. L'unico modo che avete di vendere le vostre quote è di trovare qualcuno che le compri. Il fatto è che questo qualcuno potrebbe offrirvi un prezzo diverso dal valore dell'attivo del fondo, ad esempio a seconda di chi è il gestore, in che asset investe il fondo, se aleva o meno, e così via. Quindi il fondo chiuso soffre il rischio di essere venduto a uno sconto, cioè a un prezzo più basso di quello che vale, e dall'altro lato di essere comprato a un premio, cioè per di più di quello che vale. Il fondo aperto viene incontro a questo problema avendo la possibilità di creare redimire quote del fondo. Cioè se voi volete comprare quote di un fondo aperto, non le comprate da un altro investitore, ma comprate quote create apposta per voi dal fondo stesso. Se le volete vendere non dovete cercare un compratore, ma date indietro le quote al fondo e il fondo vi paga il valore delle quote. Questa caratteristica piaceva molto al regolatore e quindi mentre i fondi chiusi non potevano essere venduti dai broker, i fondi aperti sì. È cominciata come al solito in America per poi diffondersi dappertutto e i fondi attivi aperti sono oggi il più diffuso veicolo di investimento, soprattutto per l'investitore individuale. Quali sono i pro di questo strumento? Vi dico la verità, pochi. I fondi comuni di investimento hanno come target gli investitori individuali. Questo significa che a meno di rischiare grosse deviazioni nella performance, questi fondi tendono a essere investiti nelle principali aziende dei settori in cui investono. In più, il fatto di essere aperti fa sì che debbano essere sempre pronti a cancellare quote. Questo opera a loro svantaggio, perché da un lato devono tenere sempre del cash disponibile, che limita la performance, dall'altro lato perché fanno molta fatica a perseguire strategie di lungo termine che si differenzino molto dal mercato, perché se così facessero avrebbero una marea di richieste per uscire dal fondo da quegli investitori individuali che non hanno investito con molta convinzione, come spesso accade, specialmente se questi fondi gli sono stati venduti in maniera un po' spinta da qualcuno che aveva interesse. La morale è che molto spesso questi fondi usano la strategia del closet indexing, cioè assomigliano all'indice che seguono ma con commissioni molto più alte rispetto a un ETF. I vantaggi potrebbero essere che magari potete accedere a un segmento del mercato che non è ancora coperto da un ETF, oppure che per grandissima fortuna abbecchiate un manager veramente bravo che per un po' di tempo sovraperforma. Dal mio punto di vista con l'avvento degli ETF i fondi comuni di investimento non hanno molto senso e le forti probabilità sono di pagare per niente. La seconda tipologia di fondo attivo sono i fondi chiusi. Ho spiegato poco fa come funziona un fondo chiuso e infatti i fondi chiusi hanno dei grossissimi vantaggi rispetto ai fondi aperti. Essenzialmente bloccano il capitale conferito dagli investitori iniziali, i quali non possono uscire dal fondo se non vendendo la propria quota a un altro investitore, ma non possono redimere la quota direttamente dal fondo come nel caso di un fondo attivo. Questo fa sì che il fondo chiuso abbia a disposizione molti più strumenti di investimento rispetto a un fondo aperto perché non deve preoccuparsi che gli investitori si facciano prendere dal panico e vendano le quote in massa. Il risultato è che intanto i fondi chiusi possono avere un'ottica di lungo termine che i fondi aperti non avranno mai e inoltre possono utilizzare strumenti e fare investimenti del tutto impossibili per i fondi aperti. Per esempio i fondi chiusi possono utilizzare la leva, possono investire in asset non quotati come immobili e start-up, possono addirittura eseguire una strategia operativa e non soltanto finanziaria. Faccio un esempio, avete presente i REIT, i fondi immobiliari? Tecnicamente sono fondi chiusi che non soltanto investono in immobili ma addirittura li costruiscono. Se voi prendete un REIT come per esempio Avalon Bay Communities, vi trovate davanti un fondo chiuso che non soltanto ha in pancia gli immobili ma che ha anche tutta l'azienda di costruzioni. I fondi di private equity sono un altro esempio di fondo chiuso che fa abbondante uso della leva e che compra intere aziende per ristrutturarle e poi rivenderle. Quindi ovviamente l'ottica è solo di lungo termine e c'è una forte performance operativa. I fondi chiusi sono un po' ambigui nel senso che da un lato hanno più possibilità di ottenere buoni ritorni visto che possono pensare a lungo termine, utilizzare una marea di strumenti e strategie e intervenire fisicamente sugli asset che comprano. Dall'altro lato però, se ci pensate bene, più il fondo svolge attività di impresa più diventa un'azienda operativa, giusto? Chi ha fatto il mio corso sa bene che detesto il termine prodotto finanziario. I fondi non sono prodotti, sono società di investimento. Ecco nel caso di un fondo chiuso la connotazione di società diventa fortissima. Cioè un REIT è un fondo o è proprio un'azione come dire comprare Apple? Non è facile da definire, a quel punto è una sottile linea rossa che distingue un fondo chiuso da un'azienda a tutti gli effetti. I REIT, ad esempio, fanno parte degli indici di mercato, quindi sono considerati aziende, ma non solo loro. Anche i fondi chiusi britannici, che investono in aziende quotate e non quotate, a volte finiscono in un indice. Ad esempio lo Scottish Mortgage Trust, che ha una partecipazione anche in Stripe e SpaceX, per capirci, fa parte del Fuzzi 100, esattamente come Shell e Unilever. Mi viene in mente un altro fondo chiuso, che in realtà oggi è proprio un'azienda a tutti gli effetti, dato il suo enorme successo, che fa parte dell'S&P 500? Pensateci un attimo, è facile, il suo gestore lo citiamo in continuazione. Ovviamente sto parlando di Berkshire Hathaway, gestita da Warren Buffett e Charlie Munger. Berkshire Hathaway nasce come fondo chiuso e diventa ormai una holding industriale, quello che si chiama conglomerato finanziario, che è anche il terzo tipo di fondi attivi di cui parliamo oggi. I conglomerati finanziari sono dei fondi chiusi che, per la storia, le dimensioni, la struttura, l'importanza, sono considerati aziende a tutti gli effetti, fanno parte degli indici e spesso hanno anche una capitalizzazione importante. Quasi sempre derivano da qualche impero industriale di famiglie particolarmente in vista, che continuano ad esercitare il loro potere attraverso la holding di famiglia. Infatti abbiamo parlato di Berkshire Hathaway, ma altri esempi sono Exor della famiglia Agnelli in Italia e Investor della famiglia Wallenberg in Svezia. La value proposition, come si suol dire, di questi fondi è ottenere il rendimento dell'indice più qualcosina. Perché? Perché sono strutturati in modo da avere qualche tipo di vantaggio competitivo, oppure perché investono anche in asset non quotati, oppure perché, essendo controllati da una famiglia, ci dovrebbe essere un allineamento di interessi tra il management dell'azienda e gli azionisti. Insomma, superare il famoso problema di corporate governance. Nella pratica alcuni di questi fondi sono andati molto bene, ad esempio Tamburi Investment Partners in Italia, altri meno bene, come Jardin Metson di Hong Kong, ma anche la stessa Exor non ha brillato molto da quando è mancato Marchionne. Diciamo che in generale, quando si ha a che fare con un fondo chiuso, bisogna ragionare meno in termini finanziari, quindi di pura diversificazione, e più in termini di business, quindi che cosa fa quel fondo? Chi è che lo gestisce? Perché mai la sua strategia dovrebbe funzionare? Più il fondo si avvicina a un'azienda a tutti gli effetti, come nel caso dei conglomerati, dei rate di certi fondi di private equity, più stiamo parlando di azioni e meno di fondi, con i pro e contro del caso. Chiaramente, se si indovina la strategia e le persone che hanno la capacità di eseguirla, i risultati possono essere straordinari. Però ci prendiamo i rischi che ci prenderemo investendo in azioni singole, quindi un rischio specifico, con l'aggravante che, essendo fondi, specialmente nel caso dei conglomerati, possono essere più difficili da capire rispetto a un business lineare. E questo comporta una serie di problemi, tra cui il maggior rischio che il mercato potrebbe tradurre in uno sconto rispetto al valore del fondo, che se persiste per lungo tempo non è per nulla piacevole per chi detiene le quote. Se vi è piaciuto il video, date mi piace, iscrivetevi al canale. Se invece dei fondi attivi volete restare sugli ETF più semplici e più efficaci e volete imparare un metodo per costruire un portafoglio d'accumulo per il lungo termine, appunto utilizzando gli ETF, andate a vedere la pagina del mio videocorso Accumere Capitale, di cui trovate il link in descrizione qui sotto. Io sono Alessandro Lazzaro e ci vediamo nel prossimo video!